La speculazione è una cosa bellissima, pubblicazione originale sul Movimento Libertario, questo è l'articolo originale. L'attività speculativa favorisce la crescita economica, quindi le tasse anti-speculazione ostacolano la crescita economica, infatti servono alla crescita economica come le tasse sulle parole, eventualmente, servirebbero alla crescita della cultura e hanno lo stesso grado di legittimità, cioè non ce l'hanno. Vediamo che senso ha il paragone tra la speculazione e le parole. Sono due modi diversi per acquisire, usare, scambiare e trasmettere conoscenza e informazione. Una conoscenza individuale che è dispersa capillarmente e non può essere disponibile a nessuna mente direttrice. Questa conoscenza è infinitamente più abbondante della conoscenza di cui dispone il governo, è spesso conoscenza di tempo e luogo e quindi è di qualità migliore. Ostacolare la speculazione significa quindi ridurre drasticamente la quantità e la qualità di conoscenza in circolo e quindi è un atto di distruzione economica. Esattamente come impedire a un poeta di scrivere le sue poesie è un atto di distruzione culturale. In latino speculare vuol dire osservare attorno, esplorare, meditare attentamente, far progetti calcoli, anche tentare imprese commerciali. Come diceva Mises, ogni azione umana è sempre speculazione. Per esempio scegliere tasso variabile o tasso fisso quando si compra una casa, scegliere il percorso di studi oppure la proprietaria di una boutique di moda che sceglie modelli e colori per la prossima stagione. Questi sono tutti esempi di speculazioni. Ogni individuo è sempre un imprenditore e uno speculatore. In ogni caso anche i regimi totalitari non tassano tutte le speculazioni ma soltanto un tipo particolare di speculazione, quella che fa leva sull'invidia delle persone, quindi è più facile da tassare e per fare cassa e per consentire allo stato totalitario moderno di espandersi che è quello che sta nella sua natura. Tutti i totalitarismi, sia quelli vecchi che quelli nuovi, cioè le democrazie totalitarie, sono fondate non sulla coerenza ma sull'arbitrarietà. La scelta arbitraria di tassare soltanto un tipo particolare di speculazione è simile a tante altre scelte arbitrarie fatte dai nuovi totalitarismi. Per esempio la Cina non bandisce l'accesso a internet del tutto ma soltanto ad alcuni siti, quelli che parlano di libertà. Nella Germania dell'Est non veniva impedito di scrivere articoli ma solo alcuni articoli, quelli che mettevano in cattiva luce regime. In Italia lo Stato non decide la durata di tutti gli affitti ma solo quella di determinati beni in affitto, cioè le abitazioni e allo stesso modo non tassa ulteriormente la vendita di beni entro i primi 5 anni dell'acquisto ma soltanto lo fa nel caso di determinati beni e di nuovo le abitazioni. In conclusione è la speculazione ad essere una cosa bellissima, non le tasse. Le tasse invece sono una cosa orribile perché implicano la coercizione, invece la speculazione no ma è necessaria perché consente l'azione umana e quindi implica conoscenza, creatività, libertà e crescita.